Ha il nome di un titano perché titanico davvero è il compito che l'aspetta, salvare le banche in crisi. È il progetto Atlante, un fondo di solidarietà che nascerà a maggio su iniziativa del governo ma con fondi volontari e in prevalenza privati. Avrà un capitale iniziale di 4 miliardi che potrà salire fino a 6 miliardi di euro e sarà gestito da una società in cui ha un ruolo significativo, Fondazione Cariplo. Al progetto parteciperanno gli istituti di credito e di assicurazione con in testa Unicredit e Intesa San Paolo che sottoscriveranno un miliardo a testa, la Cassa Depositi e Prestiti con 500 milioni e le fondazioni bancarie. Il fondo utilizzerà il 70% delle sue risorse per sostenere i necessari aumenti di capitale di banche in crisi, innanzitutto di Veneto Banca e Banco Popolare di Vicenza, e il 30% per soccorrere quegli istituti come le citate Popolari Venete e il Monte dei Paschi di Siena che hanno il più alto livello di crediti in sofferenza, cioè di prestiti difficili da recuperare. Obiettivo del fondo scongiurare una crisi del sistema bancario e le sue drammatiche conseguenze su aziende e risparmiatori.